Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassie si sono raccontati al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. La coppia sbocciata tra le mura di Cinecittà ha parlato di quelli che sono i progetti futuri. Alla domanda come va la vostra storia fuori dalla casa del GFV, Lulu ha risposto è meglio adesso perché dentro c'erano liti e discussioni che ti facevano stare in ansia, meglio stare soli ci rende più sereni. A tal proposito Manuel ha affermato sono due cose diverse, dentro la casa sei al di fuori dei problemi della vita, ma non fai niente, quando esci hai mille cose da fare, ma l'intensità del rapporto con Lulu è la stessa. Successivamente Lulu ha aggiunto siamo uscite dal GFVip da poco, stiamo cercando di organizzare le nostre vite, ma formare una famiglia è una cosa che vogliamo fare perché abbiamo capito che dobbiamo stare insieme per sempre. A fine aprile su Ray 1 andrà in onda rinascere il film sulla vita di Manuel Bortuzzo che è stato girato quando il giovane nuotatore era ancora un concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nel film Manuel Bortuzzo verrà interpretato dall'attore Giancarlo Comare.